Cari fratelli e sorelle di Tele Padre Pio, che mi ascoltate in questo giorno di festa, di Pasqua, della risurrezione del Signore, voglio fargli gli auguri prendendo soprattutto spunto dall'ultima esortazione del Papa, di Papa Francesco, rivolta ai giovani, Christus vivit. È rivolta ai giovani ma penso possa andare bene per tutti, di qualsiasi età, purché si abbia il desiderio di mantenere un cuore giovane, una mente aperta e le forze a disposizione del Signore. Se qualcuno di voi avrà l'occasione di avere il testo o di scaricarlo da internet, vi inviterei soprattutto a leggere il capitolo quarto, corto, però contiene i messaggi fondamentali di tutto il cristianesimo che fanno sintesi nel giorno di Pasqua. Ecco, ci ricorda queste tre grandi verità, che Dio è amore e ci ama, che siamo amati da Lui sempre e comunque. L'amore di Dio è il Big Bang dell'esistenza e della vita e dell'universo. La seconda verità è che il Signore Gesù non solo è colui che ci ama, ci affianca, cammina con noi, ma è il Salvatore, è il Salvatore della nostra vita e la garanzia della nostra esistenza. E la terza affermazione sta già nel titolo, Cristo vive. Se Cristo vive significa che è qui, adesso, ora, al mio fianco, in mezzo a noi, non è un semplice ricordo o un modello che ci viene da lontano per quanto bello, positivo e interessante possa essere. No, è una persona vivente al mio fianco che mi incontra e che posso incontrare se voglio. Con questo invito vorrei leggervi due passaggi che ritengo fondamentali e bellissimi dell'esortazione apostolica, nel numero 67 e al numero 163. Ecco, al numero 67 il Papa ci invita ad avere una capacità nuova. La capacità nuova e vera è quella di cercare percorsi dove molti oggi intravedono solo muri o costruiscono addirittura muri, trovare i percorsi di accoglienza, di relazione, di costruzione della società. Oppure riconoscere possibilità, possibilità nuove, energie, là dove si è soliti solo vedere problemi. Io scherzando dico sovente che se c'è un problema sono contento perché significa che il problema, se è vero, ha una soluzione. Ecco, il percorso è quello di trovare queste soluzioni, che sono soluzioni di vita e soluzioni per tutti. E al numero 163, che è un numero abbastanza complesso, dove il Papa sottolinea percorsi particolari di vita, ci sono due affermazioni, due definizioni. Ecco, la prima definizione è che cosa si intende per crescita spirituale. Ripeto, è detto ai giovani, ma io penso sia detto ai giovani di cuore, ai giovani di buona volontà, anche se hanno 80 o 90 anni, finché c'è vita c'è giovinezza. E con la crescita spirituale, ci dice il Papa, si esprime soprattutto nell'amore fraterno. E questo amore fraterno deve essere generoso e misericordioso. Sovente pensiamo alla fraternità come un qualche cosa di troppo devozionistico. La spiritualità non è semplice devozione. La spiritualità è la capacità di farsi prossimo, di riconoscersi fratelli, di vivere la generosità e la misericordia. E poi c'è una seconda definizione ancora più bella, forse detta a TV Padre Pio, qui a San Giovanni Rotondo, di fronte a questo santo che è una miniera, un tesoro enorme di spiritualità, la definizione di estasi. Pensiamo che l'estasi, sia un sollevarsi da terra, un uscire dalla realtà per farci arrivare a chissà quale empireo. Non è così. L'estasi è definita dal Papa, dice, consiste nell'uscire da se stessi per cercare il bene degli altri fino a dare la vita. A me questa sembra la vera definizione della Pasqua e nello stesso tempo la sintesi della vita del nostro santo patrono, San Padre Pio da Pietrelcina. Allora con queste parole, che non sono mie, che ho mutuato dal santo padre, a tutti e a ognuno di voi i miei più cari e sentiti auguri di una santa e buona Pasqua.